Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti e di te. Se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri.